La nuova serie 6H Stage 5 con i suoi 2.420 mm di passo, 4.800 kg di peso, 8.500 kg di massa massima ammissibile e una ruota posteriore da 38 pollici è la macchina giusta per chi vuole un trattore tuttofare. Prestazioni, grazie al nuovo motore FPT capace di erogare da 114 a 127 CV con 518 Nm di coppia per entrambi i modelli. Forza lavoro, grazie al circuito idraulico a centro chiuso da 110 litri al minuto e i 7 distributori totali di cui due elettronici posteriori e due meccanici ventrali per il caritatore frontale L30. Ma anche comfort, grazie alla cabina sospesa e dalla sale anteriore sospeso, entrambi sviluppati e prodotti nei nostri stabilimenti di fabbrico. E infine, tecnologie di bordo, grazie alla connettività Isobus, al pacchetto PSM, Precision Steering Management e alla gestione della flotta e della diagnostica da remoto con il Landini Fleet and Remote Diagnostic Management.